Hello everybody! Ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovo video, sono struccata e sono appena uscita dalla doccia, quindi... Sì... Scusatemi davvero per l'assenza, non so come scusarmi, veramente mi sento uno schifo, però spero davvero di riuscire a caricare questo video in quanto mi trovo all'estero, il mio computer sta letteralmente morendo perché non ho portato l'adattatore e sono un genio ma... Provo a filmare questo video, almeno caricarlo se riesco in qualche modo altrimenti... Pazienza, lo caricherò quando riuscirò Comunque, ho deciso di fare una sclea a tema viaggi, come avete visto sui social network e ho scelto alcune domande carine che mi avete fatto voi, quindi ho intenzione di rispondere Serena Caldarola mi chiede L'oggetto che hai sempre con te, puoi salutarmi? Ciao Serena Allora, un oggetto che io non lascio mai a casa è una videocamera o comunque una macchina fotografica Adesso mi è arrivata questa nuova macchina fotografica fantastica che è la Nikon T1 E io adoro, veramente adoro, è bellissima E quindi l'ho portata con me, se no prima avevo la mia Nikon D3100 Con cui facevo foto, di qua di là, sempre sul pezzo Sempre sul pezzo E niente, insomma, sì, quello Aurora Braccialetti Rossi mi chiede Preferisci viaggiare in treno, macchina o aereo? Perché? Un bacio Un bacio anche a te Allora, io preferisco viaggiare in macchina Cioè, per alcuni punti di vista in macchina Allora, prendo molto spesso la macchina per fare viaggi in Italia più che altro Dico macchina e non treno perché non prendo quasi mai il treno Cioè, l'ho preso veramente tipo due volte nella mia vita Ma a parte questo, viaggio molto 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 in aereo Ma odio davvero l'aereo Cioè, ho veramente paura, ma una paura matta Di stare in aereo, cioè, mi dà un po' fastidio non essere attaccata a terra Quindi sì Preferisco viaggiare in macchina perché sono tranquilla Antonio Francese mi chiede Hai l'opportunità di lavorare all'estero, trovare una casa, ecce Quindi, farti una vita fuori dall'Italia Dove sceglieresti di andare? Un saluto Un saluto anche a te Sceglierei senz'altro di andare o in Inghilterra o in Francia Perché? Perché voglio restare in Europa E perché sono le due lingue che più mi piacciono E quindi potrei imparare a parlarle bene, 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 bene Senza che mi dia fastidio dover parlare questa lingua Anzi, sarei spronata a parlare meglio E soprattutto perché sono vicini a casa E quindi se c'è un problema posso tornare indietro Ma anche perché sono dei bei paesi in sé e mi piacciono Sveva Sessa Mezzadri mi chiede Un posto a cui sei particolarmente affezionata? Mi saluti Ciao Sve Allora, se devo dire un posto a cui sono veramente affezionata È Senigallia Che se non sapete dov'è È nelle Marche Vicino ad Ancona Ed è un posto al mare E ho passato lì talmente tanto tempo Tutta la mia infanzia Tutte le estati Anzi, vivevo anche lì vicino Perché abitavo ad Ancona E che niente Diciamo per me è come essere a casa Nel senso Andare lì d'estate Per me è rassicurante Mettiamola così Tutte le volte che vado Comunque so che passo del tempo con la mia famiglia Con i miei parenti Mangio il gelato che mi piace Mi abbuffo di pesce Di cibo buono Sì Fino a quest'anno non avevo degli amici Quindi sono sempre stati tranquilli Nel senso Io da sola pensavo a me stessa Tranquilla Avevo del tempo per me Staccavo da tutto Mentre quest'anno anche Tipo delle conoscenze Più o meno E quindi Sì Sarà Sempre più bello Comunque sì Quello per me è casa E un altro posto Qui sono veramente affezionata È Alghiero Perché ci vado sempre con la mia migliore amica E infatti anche quest'estate Non vedo l'ora di tornarci Alghiero è tipo La nostra cosa insieme Dove siamo noi Staccate da tutto È una nostra realtà Parallela Che condivido solo ed esclusivamente con lei Quindi sì Sono affezionata molto anche Alessia Tarquinis Mi chiede Quando viaggi preferisci l'ebook Porti sempre un libro Appontami Saluti Allora non ho mai letto un ebook Nella mia vita Perché non ho un kindle Né un ipad Su cui leggere un libro Quindi preferisco un libro cartaceo Ma anche se avessi un kindle O qualcosa del genere Non mi piacerebbe leggere Sullo schermo Perché secondo me Leggere un cartaceo È molto molto più appagante Una cosa che faccio sempre Quando leggo un cartaceo È sottolineare Con le evidenziatorie Le frasi che mi piacciono di più O altre volte Commento quello che l'autore scrive Con la matita Tipo quando leggevo Il ritratto di Dorian Gray Scrivevo tipo All'autore Ma perché gli hai fatto fare questa cosa? Non ha senso Gli hai rovinato la vita? Oppure Non sono d'accordo Con quello che dice Dorian In questo momento Perché di qua di là Insomma Mi piace scrivere E consumare il mio libro Diciamo Lasciare un segno Scrivo anche la data All'inizio Sulla prima pagina del libro Scrivo il giorno in cui l'ho iniziato E il giorno in cui l'ho finito E niente Sono cose mie Insomma I libri vanno vissuti Sono Sono Come dei compagni Almeno Così credo io E niente Le domande per oggi sono finite Io spero che questo video Vi sia piaciuto Ma soprattutto Spero di poter caricarlo E spero di poterne caricare un altro presto Detto questo Io vi mando Un bacione E noi ci vediamo al prossimo Ciao